Bella a tutti Forniteers, benvenuti su Leontube, in questo video andiamo a fare la missione, sempre degli incarichi, i ricercati, elimina membri dei sangue freddo della seconda trance, facciamo rumore e quindi loro si trovano generalmente qua sotto, andiamo a vedere se hanno già iniziato una battaglia con qualcuno, a questo momento troviamo colpi, quindi andiamo a cercare Dove la facciamo questa missione? La facciamo praticamente in questi posti qua, lastre lucide, fratture fallaci o bastioni brutali, dove ci sono? Eccolo qua Eccolo qua, il primo ce l'ha già dato eliminato Eccolo qua, ce l'ha già dato eliminato, dovete eliminare questi personaggi qui Lo possiamo fare in più partite, non per forza in una sola partita Ora vediamo se ne troviamo, eccone un altro Finito le posizioni Ecco fatto Abbiamo eliminato anche il secondo E vediamo ora Questo ce l'ho già Quindi continuate Ecco, ce n'è un altro di là Ora qui ho pochi colpi Quindi devo cercare delle munizioni Eccone un po' Possiamo potenziare anche le nostre armi Ok, deve essere andato Vediamo un po' Finito i colpi Allora abbiamo preso, ma ho finito tutte le munizioni Dobbiamo andare a cercarle Tanto mi viene a cercare Andiamo a cercare munizioni Le compriamo qua Andiamo a comprare qui Così fate anche l'altro Ok, non le vende Niente, qui è un perro Mi sta dando la caccia Devo solamente trovare delle munizioni Dunque, avete visto come fare Prendo la mitraglietta Ecco qua, è eliminato Vedete tre Ne abbiamo già fatti tre Ora basta spostarci In un'altra zona O in un'altra partita E la missione è completata E quindi niente Avete visto come fare Dovete continuare così I punti sono quelli lì Lastre lucide Fratture fallaci E bastione brutale Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre Se vi va Vi invitiamo a iscrivervi Al nostro canale Non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere I nostri aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti